Dietro ad ogni idea c'è un pensiero concreto c'è apertura c'è voglia di fare dietro ad ogni percorso ci sono dei passi da compiere insieme c'è il nostro fare la scena che valorizza le abilità di ognuno dietro ad ogni iniziativa c'è lavoro di squadra c'è crescita c'è supporto repubblico dietro al vostro aiuto ci siamo noi una caratteristica c'è bisogno Grazie a tutti